Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di questa crema viso di Geomar che ho comprato qualche tempo fa ad Acqua e Sapone in occasione di un'offerta sui prodotti viso di Geomar. Parliamo di una crema viso idratante e lenitiva, non ecobiologica, ma al naturale al 95%, perciò se quel 5% di non naturale non potete accettarlo, lasciate perdere questa recensione, il resto del 95% è naturale appunto, il prezzo consigliato sulla scatola è di 4,90€ o 4,99€, però negli Acqua e Sapone non credo superi 4€ in ogni caso e io l'ho trovato in un'offerta a 2,75€, perciò mi sono fiondata a comprarlo. Allora, cerco di aprirvelo per farvi vedere un po' la consistenza, come vedete l'ho già quasi finito, è una specie di, è molto denso ma comunque leggero, non è che risulta troppo troppo pesante sul viso, sono 50ml, ecco, l'ho riuscito a vedere, pao di 12 mesi, io non amo particolarmente i prodotti nel barattolino perché poi devo metterci le dita, poi sono troppo pigra per prendere una palettina e pulirla ogni volta che la uso, quindi la uso comunque così col dito, ovviamente avendo le unghie lunghe, lunghe, ok, oggi non parlo bene, avendo le unghie lunghe, lunghe, va bene, ciao, e praticamente mi dà un po' fastidio perché comunque per quanto io mi voglio lavare bene le mani, le unghie, insomma, ho sempre paura di qualunque cosa ci si infila dentro, comunque sia, parlando della crema in sé per sé, quindi abbiamo capito che il packaging non mi piace, preferisco i tubetti o gli erogatori con la pompettina, insomma. Per il resto la crema mi piace molto, è, allora, tra le tre che sono in linea di Geomar, al 95% naturale, questa dovrebbe essere quella un po' più leggera, le altre sono consigliate per pelli un po' più mature. In ogni caso, io quest'estate non sono riuscita ad usarla, infatti l'avevo iniziata verso metà aprile, poi tutta l'estate l'ho stoppata e l'ho ripresa adesso che era iniziato il freddo. C'è la glicerina, mi sembra, a secondo posto dopo l'acqua, ho conservato l'inci, quindi poi ve lo farò vedere a fine video, ora, adesso ad occhio non mi ricordo, però la glicerina è proprio in alto. So, non sono un'esperta di ingredienti, però facendo delle ricerche su internet, chi si definisce esperto aveva definito la glicerina come un prodotto che è un po' ingannevole, nel senso che dà quell'impressione di pesantezza sul viso. Io infatti quest'estate mi sentivo come se avessi una maschera in faccia, non riuscivo a respirare, quindi non l'ho più usata. Diciamo che sembrano molto molto idratante, io mi ci trovo bene in ogni caso perché la mia pelle è morbida e compatta, quindi se non avete esigenze, ripeto, particolari di inci perfetti, ecco, un po' away per il prezzo perché a 2,75 euro la ricompro altre 3-4 volte come minimo, nonostante la confezione non mi piaccia. Quindi se insomma non avete particolari esigenze e non fate troppo caso all'inci, questo è un buon compromesso tra prezzo, ingredienti e qualità, ecco, quindi come al solito se avete qualche domanda fatemela pure. Io termino qui, grazie e alla prossima. Ciao! Ciao!